Musica Buona giornata a tutti quanti voi cari telespettatori, ben arrivato, ben ritornato dopo un po' di tempo al nostro ospite Filippo Lazzarin Lega, sindaco di Arzer Grande, direttore generale centri commerciali regione del Veneto, ben arrivato qui con noi Grazie Elena, grazie dell'invito e grazie, un saluto anche a tutti gli ascoltatori Allora, in modo particolare non può essere fisicamente qui presente perché viste tutti i ruoli e le cariche che riveste dovrebbe spezzettarsi in tante striscioline, clonarsi più volte per riuscire a far tutto infatti io non so se riesco a dormire la notte visto anche il periodo che richiede tantissimo impegno Come la devo chiamare? Presidente? No, di notte si dorme poco perché studio e quindi adesso sto completando anche gli studi in psicologia quindi no no, di notte si studiano, a parte gli scherzi sono molto impegnato su più fronti va benissimo Filippo perché io sono una persona, insomma il rispetto si misura in altri modi non sicuramente con i nomi e in questo caso mi trovo proprio al centro commerciale Piazza Grande dove anche in questa situazione sono responsabile, direttore, manager di queste grandi strutture insomma dove sono impegnato anche a livello regionale su altre province proprio per la gestione di queste macchine commerciali, queste grandi strutture che al loro interno hanno centinaia, migliaia di dipendenti Perfetto, infatti io voglio incominciare da questo dopo parleremo anche della situazione come amministratore di un comune delle difficoltà che ci sono, poi adesso c'è la questione anche scuole, chiusure, insomma un po' di tutto però la cosa che balza agli occhi fa un po' anche preoccupare sono questi provvedimenti all'inizio adesso paventati però c'è sempre quando si paventano poi si finisce dentro di chiusura addirittura dei centri commerciali anticipati durante la settimana è quello che è un po' la provocazione perché si vuole evitare che i ragazzi che non vanno a scuola, che sono in DAD si accumulino all'interno di questi centri e quindi facciano aggregazione comunque ci siano luoghi di aggregazione inopportuna e quindi veicolo di contagio Per evitare questo, verrebbe da dire, metti maggiori controlli, metti le forze pubbliche c'è una entrata e c'è un'uscita, puoi verificare più che in un centro cittadino e quindi chiedo a lei che dirige questi centri commerciali qual è la sicurezza, quali sono i provvedimenti e poi essendo anche amministratore di un comune sa bene come ci sono, fin dove ci si può muovere i controlli fin dove possono arrivare, se è legittimo un provvedimento quando viene preso poi a livello nazionale però se ha una sua logicità oppure no mette soltanto in crisi famiglie perché vanno in cassa integrazione redditi e strutture che credo non stiano tanto bene visto che sono chiuse ormai da tantissimo anche i fine settimana Ma proprio così, come il virus ha le sue varianti anche i nostri giovani stanno evolvendo si stanno riorganizzando è un fenomeno che da qualche mese a questa parte stiamo registrando proprio nei centri, nei parchi commerciali quello di vedere la formazione di gruppi proprio di ragazzi, di studenti queste misure purtroppo restrittive nei nostri confronti rischiano di penalizzare tantissimo dal punto di vista ovviamente economico le varie attività ma non solo gli imprenditori di riflesso e a cascata anche tutti i dipendenti dovete pensare che un centro di medie dimensioni ospita 500 addetti tra vendita, vigilanza, pulizie, manutenzione e da sempre, no, da un anno a questa parte da sempre i centri commerciali, i parchi commerciali sono grande distribuzione organizzata lo si chiama apposta sono sempre attentissimi alle manutenzioni quindi alla pulizia dei filtri di aerazione alla vigilanza alla sanificazione di tutte le aree dai bagni piuttosto che ovviamente tutte le parti comuni diciamo dai mancorrenti delle scale mobili quindi dico se dal lunedì al venerdì e lo vediamo anche nei messaggi nei messaggi che arrivano degli ascoltatori il centro commerciale è aperto, regolato e controllato questo è molto importante lo segnalavi anche tu poco fa Elena la vigilanza noi abbiamo la vigilanza privata all'interno quindi in supporto addirittura a volte intervengono le forze dell'ordine però abbiamo la vigilanza privata interna che gestisce i flussi e queste situazioni per derivare queste situazioni problematiche provocate anche dai giovani che non hanno un luogo dove ritrovarsi quindi vengono al centro commerciale tutte queste situazioni generano un problema perché da lunedì a venerdì noi siamo una macchina direi perfetta e il sabato e la domenica no al sabato e la domenica no e perché? Perché ci chiudono e quindi tutte le persone si riversano lo vediamo dalle foto nei centri cittadini e nei centri storici delle grandi città adesso non più perché insomma hanno chiuso anche essendo in fascia arancione lo sportarsi e lo uscire dal comune però fino alla settimana scorsa vedevamo come i centri storici si riempivano se invece davano l'opportunità ai centri commerciali di rimanere aperti nel weekend ecco che una distribuzione fisiologica insomma naturale delle persone poteva avvenire e quindi si evitavano anche gli assembramenti nei centri storici ecco le chiedo un po' per capire visto che lei si occupa anche di questioni di sicurezza di gestione e tanti telespettatori si domandano ma forse perché sono più pericolosi perché sono al chiuso hanno pensato di sigillarli fine settimana perché non c'è ricircolo d'aria adeguato perché i sistemi di reazione possono provocare un aerosol eccessivo cioè che cosa succede all'interno di questi centri che peraltro sono anche di grandi dimensioni perché ormai sono veramente quelli ridotti all'osso quelli piccini piccini e che poi appunto essendo magari meno appetibili non sono così invasi da persone gli altri insomma sono abbastanza grandini c'è una risposta sì sì c'è una risposta perché pensa non si è sempre pensato di vedere i centri commerciali del 2010 in teoria con quegli assembramenti oppure i grandi centri commerciali che ospitano anche degli insegni particolari e quindi di carattere di richiamo anche con un ampio raggio che fanno le code per l'accesso ma questo veniva sicuramente prima del covid ma ora che c'è se ci si dà delle regole due volte, tre volte la manutenzione dei filtri dell'aria noi non abbiamo mai detto di non applicare le regole datecele, noi lo facciamo se ci dite di aumentare la vigilanza pur di non andare aperti lo faremo comunque all'interno probabilmente anche per inesperienza di chi sta a governo noi tecnici uno potrebbe pensare per forza parla in questo modo perché ovviamente ha un interesse di carattere no no io lo motivo io dico non va bene perché? perché ripeto siamo organizzati e siamo insomma anche preparati per far fronte a ulteriori regole stringenti ma che ci permettono di lavorare noi non chiediamo ristori chiediamo di lavorare ecco lei diceva che un centro commerciale potrebbe avere può arrivare a 500 dipendenti cioè persone che comunque lavorano una media come? una media esatto una media una media dico anche di più anche di più esatto ci sono tantissime persone dietro le quali ci sono delle famiglie queste persone quando il centro commerciale chiude lavora a regime ridotto o ridottissimo che cosa succede? finiscono in cassa integrazione cioè sono che cosa succede? c'è anche il rischio dei posti di lavoro rischio occupazionale quindi si mette in discussione per non voler attuare norme di sicurezza o di controllo più che altro posti di lavoro? sicuramente una parte finisce in cassa integrazione quindi sì una parte viene penalizzata altri hanno una rotazione quindi dove ci sono dei punti vendita un po' più piccoli c'è il titolare che magari presenzia maggiormente ma non ha più la necessità di fare la rotazione quindi il turno di riposo settimanale e quindi intervenendo e venendo meno la necessità della forza lavoro sicuramente sì possiamo un un 20% ecco un 20% in meno sicuramente di lavoro c'è dei contratti non si è ancora parlato perché è tutto fermo sicuramente non si parla di assunzioni e per ora finché ci sono i blocchi dei licenziamenti non abbiamo questi problemi diciamo che però lo stringere la 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 cinghia il riorganizzare ecco l'assetto l'assetto del personale è un'impresa molto difficile che appunto penalizza tutti questi dipendenti dicevo prima una media di 500 per un medio centro commerciale ma ci sono i centri commerciali da 100 150 a punti vendita che ovviamente ne ospedano molti molti di più assolutamente leggiamo i messaggi che sono arrivati così leggiamo con calma anche se mi sembrava che lei fosse riuscito già ad adocchiarli con la rapidità ormai di esecuzione lo vediamo un po' insieme abbiamo un negozio vendita scarpe accessori all'ipercity e siamo in forte crisi perché ci mancano gli incassi del fine settimana francamente durante la settimana si lavora abbastanza ma perdere due giorni importanti come sabato e domenica è grave vediamo anche il messaggio ho i numeri ho i numeri nel senso che beh questo messaggio è un quadro puntuale di quello che stiamo verificando accertando in tanti altri centri commerciali tra l'altro conosco molto bene l'ipercity durante la settimana da lunedì a venerdì abbiamo un incremento del 12-15% degli ingressi questo è vero cioè ci sono più ingressi del 12% rispetto all'anno vabbè un anno fa è una disgrazia diciamo un anno e mezzo fa adesso di un anno fa molto di più però tipo fino alla settimana scorsa che c'era un incremento diciamo fino a un paio di settimane fa che c'era un incremento graduale registravamo dal 12-15% in più durante la settimana quindi da lunedì al venerdì quindi dei dati buoni certo il vero problema è che la struttura rimane quindi i costi fissi comunque rimangono in un centro commerciale perché comunque è operativo il vigilante c'è perché il negozio di alimentari deve rimanere aperto quindi una sorta di costi fissi ci sono e il problema è che non essendo aperti i negozi di abbigliamento in questo caso dell'ascoltatore che ha inviato il messaggio di scarpe guadagna il 100% in meno e compensare è impossibile abbiamo perso completamente un anno non si compensa allora detto questo è anche rilevante allora interrompiamo secondo andiamo in pubblicità poi torniamo ancora insieme resti con noi un attimo solo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.